Ciao bellissime e bellissimi, siamo di nuovo in diretta a Siris TV di Natir Dea per voi. Oggi ce l'aviamo anche la compagnia della nostra corona, siamo a Idruscalo di Milano con i miei bellissimi assistenti, la Claudia e Darius. Volevamo informarvi che questa sera, grande festa al Jessica Valley, Iris Fashion Night compie 5 anni, quindi non potete mancare. E visto che ci siamo, anche per la nostra libertà, direi ragazzi, vero? Da stasera si parte, balliamo, iniziano i spettacoli, quindi vi abbiamo preparato una serata piena all'insegna della moda, innanzitutto dell'arte, degli artisti, tanto showbiz, tante VIP, quindi non potete mancare. Io vi ringrazio perché avete mandato in tanti la vostra candidatura, anche per i modelli, come anche per le modelle, e vi volevamo dare questa opportunità, stasera, di conoscerti tutti quanti. Quindi vi aspetto dalle 8 e mezza al Jessica Valley di Milano, di Natir Dea per voi, in diretta a Siris TV. Ciao!